patatini questi sono di leda e sono più un po più piccoli perché sono nati dopo e poi sono dieci quindi comunque una cucciolata un po più piccola e invece qua ci sono già loro che sono vedi un po più grandi sì 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 coccole 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 coccoline coccoline sì 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 cerco di farteli vedere bene qua ce ne sono tantissimi